Allora, siamo tutti qui riuniti per parlare dello State of Play 2022, giusto? Per commentare le varie uscite su quello che sappiamo, ciò che non sappiamo, cosa gli Insiderci hanno detto, se ce l'hanno detto. Allora, io stanotte me lo sono visto tutto, cioè appena... Ah, tu oggi è pernottato, ieri. Io ho pernottato praticamente a montare la prima parte del video, difatti ho visto lo State of Play tutto, pensavo durasse di più, infatti mi stavo impanicando perché avevo un po' di sonno, ho detto aspetta però, devo vedere quanto dura, anche perché nel frattempo stavo registrando anche le clip per il video, quindi insomma vabbè, tutto un tasino, e vabbè, alla fine è durato mezz'ora e in questa mezz'ora hanno annunciato l'impossibile. Io ho già all'inizio appena, cioè... Io dello State of Play quando è uscita la premiere io non ero presente e svolgevo altre attività tra quali dormire e... Capito? Lui dorme, aspetta, lui dorme... Ho saputo che finiva così. Lui dorme e io lavoro, io monto i video. E ma io porto i gameplay. Lui ogni tanto fa le compasse, non è vero che li sto portando ultimamente anche io, e pretende la metà dei soldi. E certo, il canale è mio. E' il canale è mio. Il canale è mio. Sono per metà, 50-100. In realtà è a nome mio, quindi... Si è fregato. Che... Allora... Visti i primi 5 secondi della premiere... La premiere l'ho vista tutta, quella nostra di oggi, ho partecipato, come avete visto, anche tra i commenti, se ci siete stati, che ho chattato molto per spiegarvi le varie cose che ho notato, e per me era la prima volta che lo vedevo, e già i primi 3 secondi fanno vedere da dietro un Leon, e ho detto, cazzo, inizia con un Resident Evil 4, cosa ci potremmo aspettare? E infatti ha cacciato roba molto bella. Remake, richiami, più che altro, e soprattutto ha cacciato un capitolone di una serie inaspettativamente, che ha cambiato tutto l'ordine delle cose. Io credevo si trattasse inizialmente, perché non ci avevo fatto molto caso, perché mi stavo ancora preparando, quindi non avevo visto bene che c'era scritto. Pensavo fosse addirittura un nuovo Resident Evil, talmente che era fatto bene e reso bene graficamente. Io mi aspettavo... Ho detto, aspetta un momento, Leon è vecchio, cioè nel senso... No, ma a parte, ma poi anche 7-8, in realtà 7-8 di numero cronologico, ma in realtà cronologicamente nella storia e nel passato sono le origini dell'Umbrella. Village e Biohazard. Quindi non ci poteva proprio essere Leon proprio fatto di anni. La nostra domanda è come ha fatto ad esserci Chris, che Chris Redcliffe sembra più giovane in Village che in... Ah no, giusto, sembra più giovane in Village che in... No, scusate, sembra più vecchio in Village che nei Resident Evil normali. Quindi cosa è successo? Scusatevi, eh. E dal 3 ci hanno fatto vedere, secondo me apposta, dei dettagli presenti in Biohazard e in... E in Village che adesso sappiamo cosa sono. Quindi io direi di giocare il 4 originale per vedere se quelle cose ci sono in quei punti. Hai ragione. Perché secondo me sono state messe dopo. Stavo un po' filosofando su questo fatto, anche sull'aspetto... Io dicevo, casa Baker c'è, perché se c'è Resident Evil 4, e sta lì, il posto esiste. Ma se tipo in casa Baker, la planimetria è quella nel gioco originale? Oppure se andiamo giù, se riusciamo a scendere nel garage e troviamo il corpo di... di... di Baker, lui, non mi ricordo come si chiama, comunque del padre morto a terra? Chissà, chissà. Chissà, perché comunque essendo un remake potrebbe essere che effettivamente ci hanno aggiunto delle cose in vista dei nuovi titoli, perché altrimenti... Non dico che non avrebbe senso, però si chiamerebbe Remastered, non Remake. È una cazzo di verità, io pensavo che era Remastered. No. Invece è Remake. Non è Remastered, c'è una bella differenza. Perché il remake è rifare il gioco da capo, magari appunto aggiungendo roba nuova. Ehi, Nico! Ciao, Nico! Il nostro top donator, compagno di battaglie. Comunque ho una idea per il gruppo, te la spiego dopo stasera, se abbiamo tempo. Poi... Vediamo se è fattibile. È una bella idea carina per ricordare quante ne abbiamo passate, anche perché nei prossimi giorni chiuderà definitivamente Fortnite, quindi... Non è per Fortnite, lo dico per adesso, ma è un'idea che volevo basare sull'amicizia che è cresciuta online nel nostro gruppo. Più che sul singolo gioco. Sì. Quindi, poi ne parlo. Anzi, se il volume si sente basso, adesso non so se facendo così sia. Perché sono io che ho la voce bassa, in realtà, anche questo. No, anche questo è un cardioide, dovrei muoverlo in bocca per parlare. Mm-mm. Attento, parla, non ti inquare. Ok. Io cerco di... Quindi... Che volevo dire? E quindi questo State of Play abbiamo capito che inizia con questo trailer, diciamo, di Resident Evil 4, che abbiamo detto remake. Il trailer è stato un po' scarso. Ci ha fatto vedere, essenzialmente, la casa Baker con Redcliffe, con Claire Redcliffe, diciamo, nel presente. E ci ha fatto vedere, un particolare in casa Baker, la chiave a quattro ali di Village, la chiave di Madre Miranda. Eh, ma sai cos'è? Ti spiego subito perché il trailer era poco... Cioè, era poco, in realtà. Perché uno è un trailer announcement, quindi è soltanto l'annuncio, non è un trailer definitivo. In più stiamo parlando dello State of Play che deve durare, secondo i tempi di Sony, mezz'ora. Ah, non sapevo di questa durata. Eh, sì, deve concentrare in quella mezz'ora tutti i titoli che devono uscire, perché ha fatto mezz'ora precisa, quindi io penso che doveva stare nella mezz'ora come i tempi. Sì, perché poi se è lo State of Play, dove viene girato? Alla IA? Ci sta un evento in pubblico? Non credo. No, è un evento in streaming. È in streaming, quindi penso che Sony è dovuto andare stretto con altri servizi, anche perché Sony noi lo conosciamo dal mondo del gaming. Ciao, Giovi. Ciao. Ah, o è Luis. Ciao, Luis. Ciao, Luis. Dicevo, Giovi, ma è mio padre. Giovi. Giovi, ciao. Ciao, Luis. Noi conosciamo Sony dal punto di vista di tecnologia e gaming. Tutte le announcement, le console, l'elettronica, ma non sappiamo tutti gli altri ambiti di Sony cosa poteva aggiungere, diciamo, la durata di 30 minuti per dare libero arbitrio ad altre sue attività. Quindi sì, ci andava stretto, poi era un trailer announcement e poi, essendo un remake di suo, il gioco sarà breve, quindi praticamente ce lo facevano vedere se metteva un'altra roba. E per essere un announcement è stato anche abbastanza lungo perché sono stati quelli che hanno preso più tempo sono stati proprio Resident Evil, Street Fighter e Final Fantasy XVI. E abbiamo spoilerato lo State of Play. Ciao. No, no, vabbè, no, che ormai già si sa, noi stiamo commentando le uscite. Sì, hai tutte le uscite perché mi ricordo anche io questi tre, non mi ricordo se ci sono state altre cose. c'è stato Sonic, l'hanno messo nello State of Play? No. No. Sonic no perché evidentemente non è Sonic, non è Insomniatic, non è Capcom, non è Sonic. Sì, sì, sì. È un'altra casa. Forse dico, forse non estico al 100% neanche ancora di giro sulla Forza, io e Luisa da Agosto partiamo e vi dico solo questo, destinazione Napoli. Ora voglio la vostra per quanto riguarda Fortnite e Pac-Man. Aspetta, sì, ne parleremo ma è off topic, quindi aspetta, ne parleremo dopo lo State of Play. Allora. Ne parleremo sicuramente. Ah, sì, madone, cioè sono uscite delle cose da metaverso proprio che mi ruberanno la vita se intanto su YouTube abbiamo una challenge, se pagate ognuno un euro, Daniela giocherà tutto Horizon The Call of the Call of the Mountain in VR quindi significa proprio perdere la vita sociale perché sarai tu Aloys sarai tu a gestire le azioni Aloy Allora, i giochi presenti sono stati Resident Evil 4 che resta roba? Ah, Resident Evil 4 aggiornamenti per VR in generale e l'aggiornamento per no giochi per il PSVR 2 subito dopo Resident Evil 4 allora intro qui e poi tu ti unisci ok? Allora subito dopo l'annuncio di Resident Evil 4 che vi ricordiamo uscirà il 24 marzo 2023 tre giorni prima del suo compleanno quindi proprio cade a pennello e abbiamo anche il contenuto disponibile per il PSVR 2 che comunque sarà non sappiamo effettivamente quando è in arrivo perché non ne hanno parlato non hanno parlato per quanto riguarda di vabbè era normale forse non hanno parlato di accessori ma hanno parlato soltanto di giochi nello set of play l'unico cioè in ogni gioco che annunciavano per PSVR 2 alla fine non inserivano una data neanche un anno ma perché il VR non esiste ancora in fase sperimentazione lo potranno aver provato dei youtuber stranieri ma perché hanno collaborato alla costruzione ma non il dispositivo non esiste ancora dobbiamo dire questo il VR non esiste ancora sotto fase sperimentazione anche perché Sony voleva avere un dispositivo con telecamera integrata cosa significa che il tracker non è un sensore esterno come la PS camera che rilevava il visore tramite dei tracker sulla faccia ma in questo caso sarà il dispositivo stesso a capire la distanza fra gli oggetti e collocarti all'interno di un mondo digitale quindi avremo più libertà di movimento e questo significa tanta sincronizzazione quindi ci stanno lavorando ci lavoreranno è un processo molto difficile anche perché la realtà virtuale funziona a una frequenza un po' diversa dalla realtà normale e quindi devono sincronizzare i vari movimenti tra noi e loro quindi è un casino consideriamo che sarà anche un VR per console quindi non è un VR quindi non c'è manco la potenza di un processo di un computer che può gestire queste cose quindi vedi chiaramente è sempre un po' più limitante rispetto ad altre cose a me è piaciuto lo state of place soprattutto per Resident Evil 4 rimasterizzato non è rimasterizzato ma è remake è remake sì quindi comunque potrebbero esserci pensandoci adesso riflettendoci proprio all'inizio della live abbiamo parlato di questo che essendo remake non remastered potrebbero esserci un'aggiunta delle cose nuove in riferimento ai titoli che sono usciti adesso da poco come Village a quello che è il passato dell'Umbrella in sé a quello che è il passato dell'Umbrella sì mi aspetto molto anche noi ci aspettiamo grandi cose onestamente perché abbiamo visto cose spettacolari e speriamo che mantengano questo standard a proposito raga io direi dato che io penso lo prendiamo il 4 teniamo tutta la serie il 4 quando lo giocheremo se qualcuno di voi ha il 4 originale nei punti in cui noi troviamo i riferimenti a Village e Biohazard vedete voi se notificateci ma lo possiamo comprare l'originale anche sì possiamo che piattaforma è? PlayStation 2 per capire se effettivamente possiamo giocarlo non lo so se sta nel season pass di PlayStation perché io il problema ad acquistarlo non ce l'ho il problema a capire due giocarlo no ma io ce l'ho una PlayStation 2 dobbiamo solo collegarla ho capito però sono due cavetti sì quello è PlayStation 2 non è PlayStation 3 PlayStation 2 sì penso PlayStation 2 vecchiotto è ah sì mi ricordo sì sì 4 o 5 forse il 6 è PlayStation 3 sì 5 5 e 6 forse è PlayStation 3 c'è ragione se la PlayStation 2 ma poi l'originale cagazzo perché c'è la telecamera fissa mi risentivo l'originale c'è la telecamera fissa quando tu passi nel settore la telecamera si muove cioè tu non sei la telecamera capito è come se fosse un MMO cioè tu stai dall'alto puoi solo sparare e muoverti comunque se lui sa il permesso da su mia mamma ha detto già ci fa molto piacere se passate a Napoli vediamo se noi stiamo a Napoli effettivamente ad agosto no ad agosto stiamo a Napoli a fine agosto non ci siamo no direi se dobbiamo partire muovediamo 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 dunque di che parlavamo? sì poi continua vai dici quindi contenuto di Resident Evil 4 anche sul VR2 poi Resident Evil Village il gioco per intero sul... no no non è nel Resident Evil 4 su VR sì sì siamo proprio Village VR anche hanno annunciato subito dopo il trailer di Resident Evil 4 anche che ci sarà un contenuto disponibile vuoi saperlo meglio di me che l'ho visto tutto ieri sera mentre tu dormivi ok tutto a posto ehm date eh sento bassino è perché io ho la voce bassa perché sono i miei che stanno riposando posso avvicinare il microfono quando parlo pronto buonasera eh l'hai abbassata ancora in più eh no perché se no si sente troppo alto capi non lo devo fare così raga questo è un microfono a cardioide se non ci stiamo alzeccati non si sente Razer eh Razer pronto parla pronto dunque ok cercherò di di tenerlo vicino a me tanto tu te ti si sente bene vedo 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 dunque io l'avevo detto che vi leggerà VR Ready perché la grafica è la più bella grafica che ho mai visto in un videogioco cioè più realistica di quella non so cosa dirvi e e soprattutto i dettagli le cose le ombre sembravano proprio da VR proprio si è Daniela che si strozza in diretta con la ciliegia e e quindi io me lo sono chiamato Resident Evil Village VR quello deve essere veramente le ditimetrisco in VR fa strano dunque non posso dire cosa fa a voi maschietti questa cosa no ma lei brutta lei ha le tre figlie Daniela specialmente e poi è anche bionda quindi tutte bionda no no e comunque poi abbiamo ah abbiamo The Walking Dead Saints and Sinners Retribution ragazzi dico solo questa abbiamo comprato i PS Move solo per giocare a questo gioco noi eravamo la terza stagione della serie abbiamo detto basta dobbiamo comprare Resident Evil VR dobbiamo comprare Walking Dead VR e ci volevano i moves vabbè compriamo anche i moves perché va giocato terza stagione adesso è finito è andata undicesima quant'è sesta Walking Dead quante stagioni sono undici undici undicesima stagione e noi dalla terza già avevamo il gioco incredibile raga ci siamo mangiato un Walking Dead cioè in minuto di un anno abbiamo finito un Walking Dead quindi Walking Dead Saints and Sinners Retribution che come ho detto pure nel video si preannuncia veramente un bel titolo perché rispetto al primo che è parecchio oscuro non mi ha convinto particolarmente difficoltoso c'ha questa difficoltà proprio artificiale che le armi si rompono troppo spesso poche munizioni poche armi da taglio ti ferisci con le tue stesse armi da taglio ci facciamo la live pure con suo fratello con mio fratello si facciamo la live poi mi sembra che il cazzotto fa più danno perché io e mio fratello facendo arti marziali abbiamo fatto una challenge provare ad ammazzare uno zombie a mani nude il colpo lo zombie lo riceveva però il danno era così minimo che lui ti li poteva attaccare e poi il personaggio aveva una barra dell'energia minima quindi un paio di cazzotti si stancava lo zombie ti mangiava quindi chissà se hanno mi sembra che è anche cresciuta un po' la mappa perché ho visto le colline secondo me non siamo più nella fase no nessuna fase perché Sinner dopo Rick noi troviamo Rick a peso sì comunque sì deve essere molto molto più bello sinceramente mi ispira ma io penso che a parte il prossimo non prenderemo cioè noi prenderemo tutti quanti il prossimo è anche village anche il contenuto di io penso di sì io penso di sì io penso che tu già se quello là per il sì ma quello saltava quello di 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 questo invece è diretto ecco è accelerare tu dici che non è molto chissà madonna mia ecco il motion sickness esiste oddio ci sono dei dispositivi io lo chiamo vomit ready vomit ready perché il VR vomit madonna no lo sapevo c'ha creato ma no c'ha creato non ci avevo neanche pensato a sta cosa mentre la vomit ready virtual reality VR virtual ready no VR vomit ready in caso di giochi da testa vabbè no io non l'ho fatto apposta comunque quindi abbiamo capito il prossimo gioco è no man sky VR VR ora vi dico solo una cosa se star citizen da computer è già una figata che tu prendi la tua navicella campi sul pianeta vuoi fare qualsiasi cosa vuoi fare il commerciante fai il commerciante comunque quando ti sei rotto le palle di fare il commerciante prendi la tua navicella e fisicamente parti dal pianeta e vai nello spazio e decidi tu dove vuoi voler atterrare vai su un altro pianeta a trovare il tuo amico amico che gioca quindi l'online portato proprio all'estremo e figuratevi un nome in sky quindi trama un po' diversa però gameplay molto simile in VR cioè voi potete fisicamente virtualmente entrare in una navicella e partire per uno spazio spaziale in VR senza tagli senza cutscene senza download è una figata dal traire possono appunto vedere una partenza fanno vedere il character creator fanno vedere che entra nella navicella e parte secondo me in quel pezzo lì VR vomit ready dobbiamo vedere come rende l'accelerazione del diciamo quando parte il ma poi sono motori sonici quindi non dovrebbero in piazza ne so io vabbè questo qua dell'aggiornamento di Horizon Forbidden West ci spendiamo giusto mezza parola un aggiornamento di neanche 1 giga 600 mega e poco più e ha praticamente dice che ha portato a nuove armi il ribilanciamento delle skill una difficoltà aggiunta quindi ancora più estrema difficoltà che hanno aggiunto al gioco e altre cose che però non lo so in quei 600 mega non lo so non abbiamo giocato effettivamente oggi con l'aggiornamento però nei prossimi giorni vedremo se effettivamente questo aggiornamento è servito a qualcosa anche perché parlava di mega aggiornamento disponibile da subito no ma senti ragazzi il videogioco veramente sta crescendo questo state of play ha lanciato delle cose io di solito quando vedo gli state of play quando mi è capitato anche di vederlo il giorno dopo che il giorno stesso non capita mai c'è sempre tipo che mi piace una cosa su 10 ma qua più del 90% sono cose che mi piacciono e i titoli che per me non mi piacciono proprio per come sono fatto io non dico che il titolo è brutto i titoli saranno anche belli i prossimi ma ci sono alcuni che non mi piacciono in questo state of play in queste nuove modalità me le hanno fatti piacere quindi io potrei questo ne parliamo più avanti con l'ultimo titolo perché veramente è stato bella la botta anche a me è piaciuta la botta finale no perché su 16 di loro a me non me ne è piaciuto manco uno perché c'era quel cazzo di Sora che rompeva le palle che poi l'abbiamo trovato pure in Tekken ha detto il nome poi dice a me che spoiler vabbè già lo sanno stiamo dicendo nome Sky siamo già arrivati qua vabbè poi c'è Collo de Munte in VR ah non l'abbiamo accennato sì Collo de Munte in VR2 esclusiva VR cioè nel senso non uscirà per nient'altro se non per il VR2 ed è fatto apposta proprio il titolo scusate proprio il titolo di lancio del VR che ti farà che ti mostrerà appunto tutte le caratteristiche in tutto e per tutto delle potenzialità ecco del nuovo VR già per VR1 su Playstation 4 avevano fatto un dispositivo che ti simulava gli odori della mappa circostante del gioco attraverso umidor e cartine ora chissà se il VR2 è integrato perché io ne ho sentito parlare che ha questo sistema di ventilazione ora Horizon Call of the Mountain VR cioè nei panni di Aloy una vita nella natura con acrobazie esplorazioni ho visto che anche le armi sono VR nel senso che la freccia devi metterla nell'arco e poi tirare e scoccare la freccia la caccia sarà diversissima chissà lo stealth come si comporta cioè l'attacco finale è dal cespuglio che tu puoi ammazzare una bestia direttamente dal cespuglio chissà se effettivamente stando in un cespuglio e passa la bestia bisogna simulare l'attacco per fare l'attacco finale o bisogna per forza combatterci per una questione di scaling va bene Nico ciao buonanotte grazie per averci seguito vai Nico ciao ciao poi commenteremo anche questa cosa di Pac-Man per Fortnite però magari appunto lo facciamo in un'altra live perché questa era dedicata proprio allo state of play e quindi poi andremo troppo fuori argomento ma ne parleremo sicuramente comunque tornando a noi dicevamo in arrivo l'aggiornamento da Rise of the Mountain e lo prenderemo subito insieme al VR e ci spenderemo un bel po' ma ne varrà la pena speriamo che ne varrà la pena perché no grazie io non so se mi devo rivendere il mio VR onestamente perché non so se poi gli altri giochi vediamo quanto costa l'altro no perché più che altro non so se gli altri giochi che già abbiamo girerebbero no mi pare che non è retroattivo per la questione della telecamera che tutti gli altri giochi sono basati sul riconoscimento della telecamera invece il nuovo VR non ha bisogno della telecamera promette Sony che ci sarà l'unico cavo che tu lo attacchi e praticamente sei attivo già sul VR invece con il primo VR bisognava collegare 300.000 cavi e quindi noi tante volte rinunciamo a giocarci proprio per evitare di creare troppe troppi cavi mettere in giro troppe cose no la cosa che adesso di cui parleremo finalmente due diciamo un'uscita e una remastered attesissima per quelli che sono i player come noi di Playstation 5 che cosa abbiamo in questa in questa edizione che cosa ci aspetta allora abbiamo che in questo agosto 2022 cioè in questo agosto finalmente uscirà Marvel's Spider-Man Playstation 4 remastered quindi finalmente potremmo giocare su Playstation 5 con Peter perché noi siamo abituati a giocarci con Miles la novità è più assoluta e che ci potremmo giocare su PC eh già i titoli Spider-Man Marvel e Spider-Man usciranno anche su PC a partire d'agosto e questo include tutta quella fascia di gamer compreso io che vuole un gioco di Spider-Man che non sia le ombre Shadow come si chiama quel gioco classico proprio i tipici Spider-Man da computer è qualcosa di più Marvel più spostato sull'MSU inoltre 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 ci sarà un'uscita formidabile che è quella di Stray è una cosa carinissima non tanto per il gaming non tanto per la competizione ma è proprio che chi se ne frega chi se ne frega bravo Stray ci impersoneremo in un gatto che in un mondo cyberpunk dove l'umanità è la vita stessa è stata rimpiazzata dalle macchine questo gatto tra i pochi esseri viventi rimasti dovrà scoprire un mistero intrinseco nella loro di questo mondo e attraverso dei gadget che lo faranno condividere i suoi pensieri lo faranno parlare dovremmo raggiungere dovremmo praticamente risolvere dei puzzle psicofisici come possiamo capire possiamo sia risolvere i indovinelli sia usare il parkour da gatto chiamiamolo così per raggiungere potremmo stare con le zampette e poi avrà tutte le momenti di un gatto potremmo fare le fusa potremmo rotolarci nel fango potremmo grattarci le orecchie potremmo fare i ruffiani con le persone cioè no è troppo bello è troppo bello io non vedo d'ora che esca e cut simulator subito day one lo compriamo assolutamente anche perché al momento anche perché doveva uscire l'anno scorso che noi siamo andati da GameStop ma a Stray è rimandato anche perché al momento tecnicamente non dovremmo prendere nient'altro al momento no ma poi da agosto a settembre riusciremo sì che cazzo in che senso agosto settembre è Legacy ah sì ma quello è d'obbligo World's Legacy cioè ragazzi lo porteremo è un nuovo tipo di Harry Potter tutti i giochi di Harry Potter sono sempre stati questa è la silente che mi contattava allora tutti i giochi di Harry Potter sono sempre stati ok Nico ciao sempre stati puzzle cioè usare la magia per risolvere degli enigmi lancia la cazzo bolla prendi la luce leva la luce togli invece qui andiamo proprio nel succo di un fan che è un gioco che vorrebbe il fan di un Harry Potter la vita all'interno di Hogwarts e anche all'esterno infatti ci saranno i binari ci saranno la vita nella città nella vita reale a Hogwarts si potranno seguire i corsi tu potrai decidere il corso da seguire pozioni avrai il tuo praticamente diario il tuo si torna al liceo praticamente e ci saranno anche le battaglie ci saranno diverse invasioni diciamo dagli enti oscuri e bisogna combattere ma la maggior parte del gioco è seguire andare a lezione sperimentare e tutta la vita all'interno di Hogwarts e non ci troviamo nella Hogwarts narrata nei film ma addirittura ci troviamo in una Hogwarts ottocentesca quindi proprio all'origine della scuola di questa praticamente dinastia di maghi e soprattutto cosa poco ovvia ma molto vera cioè nel senso non saremo di Grifondor nel senso che il cappello deciderà in base al personaggio che ci siamo creati in che classe in che fazione metterci quindi sarà tutta una sorpresa quindi non sarà niente prestabilito niente niente da vedere tipo se finiamo nei serpeverde dovremmo seguire il corso di magia oscura diverso da chi va quindi è un online molto ruolistico molto potente quindi sarà bellissimo io comunque devo interromperti questa cosa perché stiamo andando poi off topic perché non è stato presentato ai set of play Hogwarts Legacy per cui andremo troppo off topic è la mia come si dice il mio accanimento e non sono un po' teriano non sono assolutamente noto comunque Stray esce il 19 luglio 2022 e sarà gratis tra l'altro per gli abbonati al nuovo playstation plus extra e premium che uscirà il 23 giugno quindi avremo praticamente non hanno mantenuto la promessa nel senso che non li avrebbero fatti uscire i titoli al day one ma a quanto pare un titolo al day one ci sarà ci sarà Stray che comunque non è che un titolo così tanto stupido possiamo chiamarlo cioè non è che è un titolo molto molto di seconda è un'avventura come se fosse un'esperienza la famosa esperienza videoludica ci vogliono narrare una storia attraverso questo gatto attraverso questo mondo distopico avrà qualche collegamento col mondo attuale ci saranno tematiche non lo sappiamo però dal tipo di grafico dal tipo di storia e immersione all'interno del gioco penso che sarà così però io lo vedo innovativo col fatto che siamo il gatto è sfizioso una cosa diversa da quella che si è visto finora magari mi sto sbagliando magari perché ci sta sia il tema del cyberpunk sia il tema del gatto un personaggio mai trattato nei videogiochi abbiamo draghi abbiamo lupi abbiamo tutto quello che è calide cosa ma il gatto in per sé come protagonista mai lo troviamo qualche felide in i felix in monster hunter in tutte le saghe di monster hunter sì ma non come protagonista quindi effettivamente questa cosa qui è molto innovativa e titoli altri titoli dunque cosa è successo cosa uscirà poi cosa abbiamo visto the callisto protocol un po' un horror action alla dead space come già ho anticipato nel video dello set of play che ho realizzato e che è uscito oggi su youtube se non l'avete ancora visto andatelo a vedere watermelon channel ci chiamiamo su youtube quindi trovate anche il link qui to the twitch ok attimo di pubblicità finito di autopromozione momento di autoproduzione finito promozione che produzione comunque bando alle ciance ciance alle bande the callisto protocol the callisto protocol non so se esiste come genere action horror certo ok certo ok allora non ho detto una cazzata perché me ne premeva è uno space action horror space action horror in puro stile dead space sì sì però hanno annunciato molto più horror molto più complicato sì però hanno proprio detto così però non lo so bello graficamente ma un po' scopiazzato di qua e di là sì 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 non mi convince sotto questo punto di vista però non so da quello che è il trailer mi piacerebbe giocarlo ma sarebbe un gameplay da un giorno non perché non mi piace il genere ma so che alla prima difficoltà in questo contesto di spazio vuoto abbandonerei perché sai com'è a me lo spazio piace viverlo tipo in stile star wars oh tanto tempo fa in una galassia mi piace come mezzo tra una cosa e l'altra ma chiusi in una nave alla dead space non so se sarà così ma penso che sarà così risolvendo enigmi che senza quelli non vai avanti cioè una cosa non ruolistica non fondamentalmente space action non mi sconfinferà più di tanto da quello che ho potuto vedere dal trailer e poi non mi sono informata più di tanto perché non mi interessa molto come titolo perché è il genere che mi piace detto molto francamente mi ha ricordato dead space ma anche un po' doom per la questione dei mostri diciamo sì ma anche la grafica non è tanto realistica poi questo fatto di queste armature potenziatrici tutte queste esoscheletri fa molto pensare a doom questa grossessa questa diciamo espansività del personaggio mi ha fatto pensare anche a doom ma non soltanto questo anche il fatto che comunque ci fossero tutta una serie di nemici più piccoli più grandi insomma non lo so essendo un horror può essere che ci sono nemici più difficili ma non per questo significa che siano più potenti di altri nel senso in dead space c'erano alcuni nemici che si risolvevano in un certo modo alcuni dovevi tagliare la testa direttamente alcuni invece dovevi privargli degli arti ma puntualmente per essere un horror ti mettono nella condizione che tu non puoi fare quella specificazione per levartelo di torno e devi trovare una strategia per farlo lo stesso quindi sarà questo il tipo di difficoltà secondo me comunque raga dal punto di vista grafico The Callisto Protocol è fantastico cioè non si può dire nulla perché graficamente raga a proposito The Callisto Protocol io ho visto le ambientazioni sono fatte molto sci-fi molto bene però cazzo è uscita a Real Engine quant'è uscita? 900.000? 6? 6? perché usano ancora la 4 e la 5? i colori la palette di colori è a Real Engine 5 non c'è niente di nuovo è quella che io uso per fare i modelli in 3D quando ho tempo da perdere perché non usare la 6 che è ultra realistica? una questione di pesantezza di gioco una questione di anche perché a Real Engine è molto immediato nel senso che stanno i modelli già pronti al massimo il grafico può aggiungere delle funzioni può mettere cose nuove però lo caccia un videogioca da Real Engine 6 che cazzo sì perché usare una grafica vecchia su un gioco nuovo? non lo so comunque io ci ho visto a Real Engine 5 come motore grafico ma non sarà a Real però la palette è quella quindi roba vecchia no sarà a Real ho visto un po' l'illuminazione sembrava tipo la luce esterna di Unreal con il riflettore sulla mappa questa questione tecnica della mappa però non mi sembra il 6 perché il 6 è ultra realistico io addirittura confondo a volte il videogioco ho visto trailer di roba che per me erano per film nel 5 diventa realistico è vecchio è vecchio adesso stanno facendo a Real Engine 5 stanno facendo vedere sì allora penso che sia 4 quella è proprio quella là da beauty di sviluppo a Real Engine 4 ci potrebbe stare potrebbe essere ma a Real Engine 5 sicuramente no poi abbiamo Rollerdrome no non mi piace shooter in terza persona con questa grafica la Amazing Spider-Man non so se vi ricordate il gioco a cartone Amazing Spider-Man PlayStation 2 era bellissimo esce il 16 agosto 2022 ma non lo so troppo questa grafica misto reale alla persona come persona è uguale la grafica mista tra reale e cartone sì 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 Eternite non l'ho visto non me lo ricordo qual è Eternite Eternite è molto giapponese proprio stile giapponese sì 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 è un fighter è un picchiaduro con storia come posso dire raggiungi il posto e vi picchiate quelle cose che fanno vedere l'animazione tipo della ragazza che spunta però ferma in motion sickness no non so come non so come definirla c'è questa qua che poi bello e buono spunta a bello e buono no comunque neanche Eternite mi convince particolarmente almeno non è un gioco che acquisterei ma bello diciamo perché vadovamo di esce nel 2023 non si sa ancora precisamente quando però rispetto ad altri giochi minori perché chiaramente tra i giochi importanti dovevano annunciare anche qualcuno di un po' meno importante però prodotto sempre da Sony andiamo nella sessione appassionati anni 80 cosa sta succedendo una novità assurda raga due di questi tre di questi quattro giochi elencati hanno subito una trasformazione radicale incominciamo con la lista già col primo gioco trasformato chiamiamolo così Street Fighter 6 in uscita nel 2023 cosa porta di nuovo che i personaggi ormai sono invecchiati abbiamo un rio con la barba bianca abbiamo nuovi personaggi casomai imparentati con i protagonisti principali con i protagonisti del vecchio tu non hai visto il trailer completo però era bello era fatto proprio bene bellissimo e la cosa bella è che è in open world potrebbe essere in open world Street Fighter buttato nelle streets quindi noi camminiamo in questa città alla yakuza diciamo scegliendo un personaggio oppure se la storia ce lo fornisce uno e nel momento esatto apparirà la solita schermata di Street Fighter inizierà il combattimento è una figata assurda è una cosa alla Jojo bizzarra però sono sono supposizioni però io credo che proprio ci sia l'open world perché hanno fatto vedere una parte in cui uno cammina puoi spostarti nella città con i personaggi Street Fighter questo è molto bello perché Street Fighter tu sei l'attaccabrighe delle strade cammini per le strade sembra una cosa esagerata ma averla in un videogioco è bellissimo e quindi poi anche la fase dell'allenamento si vede che va in palestra c'è la fase dell'allenamento che si che si che prende a cazzotti il sacco che tu paghi in tempo e quello fa non lo so non lo so io penso io penso che su questo potrebbero avere attinto da Yakuza che all'improvviso mentre cammina spunta verso una e quindi scatta il combattimento però sicuramente legato a una storia più profonda che sicuramente ci sarà una storia che poi racconteranno però insomma Street Fighter Street Fighter combattimento per strada quindi tu cammini per strada ti prendono e ti e ti fanno fare questo combattimento poi non so come si svolgerà precisamente ma comunque è molto promette bene e potrebbe promettere anche l'open world perché dal trailer è sembrato ci potesse essere un open world però non hanno detto nulla in proposito per cui poi si stabilirà e si vedrà in futuro anche perché appunto è scena il 2023 non si sa quando ma secondo me siamo ancora abbastanza lontani Tunic il prossimo è Tunic uno Zelda like con protagonista una volpe in uscita il 27 settembre 2022 anche questo titolo non è che sia tra i titoli più importanti annunciati come anche il prossimo che è Season vabbè andiamo prima per i gradi Tunic sì Zelda like nel senso proprio in stile gioco Legend of Zelda e siamo questa volpe che combatte che prende delle chiavi e va avanti comunque tutto giapponese perché infatti nelle descrizioni delle cose degli oggetti dei diari che trovava era tutto scritto in giapponese quindi o cinese non lo so perché non so distinguerlo purtroppo e quindi non lo so com'era scritto comunque una lingua che rimandava al giapponese al cinese o al coreano non saprei coreano pieno di palle probabilmente era coreano allora perché aveva visto parecchie palle vabbè comunque dicevamo tu avevi visto parecchie palle oggi con il film di Jackass ok madrone schifo comunque quindi Tunic carino carino ma niente di eclatante anche Season uscita in autunno 2022 è quell'esperienza di gioco molto come dicevo nel video zen molto rilassata con queste musichette di sottofondo rilassanti Season 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 sì sì me lo ricordo l'hai scritto anche dopo me gioco molto zen chissà chissà io ho un breve flashback perché quella parte non mi interessano sei fuori dalla gamma stai non interessandomi del titolo diciamo non mi ha fatto tanto effetto non ho memorizzato bene le cose però mi ricordo una scena un'illuminazione che c'era un luogo oddio comunque sì si percepiva la calma mi pare che era anche a puzzle mi pare che dovevi risolvere degli enigmi no enigmi roba spostare oggetti spostare blocchi più che altro c'è qualcosina da fare ma è tutto molto tranquillo con questa grafica animata molto particolare molto hai il suo solito problema no 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 ok in realtà sì è il tuo solito problema ma c'è una faccia dai che siamo all'ultimo titolo no è che c'ho una fibbia a forma di teschio con le osta così grossa che quando stai seduto ti preme nell'intestino se vuoi metto in pausa se hai bisogno di risolvere subito ok allora l'ultimo titolo abbiamo la sorpresa a me non mi sono mai cagati uno di questi titoli e ho perso molte amicizie per dire che non mi piacciono i final fantasy ma prima di cancellarvi dal canale tranne la mia perché anche a me non piace allora prima di disinstallare prima di disiscrivervi dal nostro canale vi spiego le mie motivazioni ok il primo era in stile mmo poco action nel senso che no scusa non era un mmo ho detto una strozzata anomala era un rpg classico vista dall'alto tu non eri nessuno dei videogiovi dei giocatori eri tutti questa cosa non mi piace proprio le mosse avevano un tempo era molto alla dungeon set dragon diciamo versione virtuale la fase di attacco era c'era il boss ognuno faceva l'attacco poi si ricaricava attaccava il boss ognuno decideva un attacco era molto per me questa era noiosa perché io il combattimento lo voglio gestire io con le mie abilità più che con la strategia quindi dal terzo in poi hanno messo un po' la questione più anime all'interno nel senso hanno aggiunto più cutscene hanno aggiunto più gameplay diciamo quasi in open world e hanno raggiunto il loro massimo proprio splendore con final fantasy no 10 forse 10 si 10 dove tu eri uno dei protagonisti potevi cercare di essere Sora no mi pare che eri proprio Sora e era quasi realistico tu camminavi con questi personaggi anime nella realtà e avevano i loro poteri questo mondo fatto molto bene però richiamava ancora quel final fantasy e poi essendoci Sora come protagonista io ho avuto una brutta esperienza in Tekken perché chi si compra Tekken chi si compra Sora in Tekken significa che la madre fa un brutto lavoro per quale motivo perché spamma da qualsiasi distanza non c'ha un punto cieco Sora sapete come ho dovuto fare fuori Sora volete sapere come ho dovuto fare fuori Sora o Yoshimitsu fatti capire se tu su Tekken usi o Yoshimitsu significa proprio hai usato la tua ultima speranza un po' come Scorpion per Mortal Kombat si e quindi questo ora abbiamo visto il 3 di Mortal Kombat 16 ah no allora era Mortal Kombat 15 eh oh cazzo Final Fantasy 15 di fatto sto ridendo Final Fantasy 16 abbiamo visto il trailer e questa nuova serie rimandata più o meno non so nel medioevo perché io non conosco la storia quindi non so se vi divise un ritorno al medioevo le loro origini con personaggi diversi e loro ho detto ah finalmente non c'è Sora vado a vedere c'è Sora adulto va niente però il tipo di gioco mi è piaciuto il cambio che ha fatto quindi secondo me vale la pena provarlo no nel gameplay hanno infatti detto che è molto più dinamico rispetto ai soliti molto più rapido il combattimento cioè hanno migliorato tanti aspetti in Final Fantasy 16 che prima magari potevano far mi è piaciuto l'effetto delle armature nel trailer ma non so se era gameplay o se era cutscene facendo vedere dei tizi in armatura e uno dei protagonisti con una spada colpiva l'armatura e il colpo era molto realissimo mi è piaciuto come posso dire ha spostato non è che l'ha fatto volare non so è come se l'armatura contasse perché di solito i legnari me non contano e quindi mi è piaciuto sto fatto diciamo questa foronorrata che hanno messo per me la più grande sorpresa è stato vabbè a parte i giochi quelli grossi assai ma di quelli là poco conosciuti diciamo quelli là nuovi più che poco conosciuti No Man's Sky in VR e Street Fighter 6 con l'open world ipotizziamo e secondo me è un grande passo avanti io che ieri poi ho visto lo state of play me lo sono praticamente goduto appieno quelli che ho apprezzato tantissimo sono stati quello che mi è rimasto nel cuore Resident Evil 4 remake non lo so mi piace mi è piaciuto me l'hanno fatto piacere non so come posso dire a me piacciono i Resident Evil io infatti c'ho c'ho sempre il ricordo perché sempre c'ho giocato a Resident Evil infatti quando ho visto Lion ho detto oh mio dio Lion è tornato io da dietro ma ma quello è Lion ma c'ha la panza subito taglio di capelli subito prendi Lion quello che mi è rimasto più impresso è appunto Resident Evil 4 remake poi Street Fighter 6 proprio per questo motivo che è appunto questo misto con questo possibile open world mi ha mi ha ispirata perché effettivamente non lo so Street Fighter 6 uguale tecniche eh tecniche uguale Tekken uguale Mortal Kombat non lo so sembra tutto quanto uguale quindi questo qui mi ha mi ha ispirata proprio perché probabilmente è diverso rispetto agli altri comunque anche dal punto di vista grafico è una bomba raga c'è proprio una bomba Street Fighter non mi dà soddisfazione nei combattimenti come se i colpi non arrivassero e i colpi finali sono banali non so perché però come se i colpissero non ti dà quella soddisfazione tipo alla Tekken oppure alla non dico che devono fare le persone ma un minimo di impatto invece in Street Fighter sembra che proprio non arrivano i colpi sembra che fanno finta di massacrarsi io ci ho giocato mezza volta Street Fighter non mi ha convinta non mi è mai piaciuto granché però sto fatto che Open World mi ha acceso quella scintilla e poi Final Fantasy 16 che ragazzi a me non mi sono mai piaciuti un po' come a Leo non per le motivazioni sue per me per altre motivazioni che sinceramente non mi ha mai ispirato cioè non so magari la grafica non so non mi è mai piaciuto più di tanto però Final Fantasy 16 da come lo hanno presentato da come lo hanno annunciato nel trailer mi ha veramente ispirato ho detto beh questo è un bel titolo da comprare per quanto riguarda i titoli che appunto io sicuramente comprerei poi non so se tu sei d'accordo o concordi con me stai sudando anche l'anima perché la tua sedia occupa il ventilatore no anche io sto sudando non sto sudando però c'è un caldo vabbè siamo chiusi in un forno abbiamo chiuso tutto si abbiamo chiuso tutto poi siamo con la luce sparallasciata tra i titoli appunto che compriremo sicuramente sono tutti i giochi per il viaggio quindi cash così e poi no non è sky voglio nome in sky raga un tizio in asia non so dove perché la sua faccia era troppo comune per catalogarlo identificarlo ha fatto una sua camera da gaming tutta a forma di navicella dove alla fine della camera c'erano nel muro degli schermi a forma di finestrino delle navi di nome sky e l'ha fatto solo per giocare a nome sky cioè fa tutta una camera a tema a nome sky io voglio una cosa del genere tutta una camera a tema è un po' esagerata però cioè quello praticamente entrare in una nave e parte come entrare in una navicella e partire ma comunque forse ho capito chi intendi forse avevo visto una cosa molto bello però non lo so a me a un certo punto queste cose con un certo tema mi annoierebbero dopo un po' poi se cambio idea che faccio devo rivoluzionare tutta la camera non c'è capito quello è il fatto comunque questa poi è un'altra cosa quindi tutti i giochi PlayStation VR 2 perché sono uno più bello dell'altro Spider-Man Remastered non credo almeno personalmente non credo per la questione che abbiamo già giocato finito rifarlo di nuovo cioè preferisco che ci dedichiamo almeno come canale ad altri titoli e ma doveva uscire Spider-Man perché hanno fatto Story Master doveva uscire Marvel e Spider-Man 2 che c'era anche Miles Morales ma c'erano i nuovi a per stare c'era Venom hanno fatto vedere quel trailer non lo so è perché non so se non l'hanno presentato agli set of play perché non fa parte però non credo perché comunque è Spider-Man quindi è esclusiva Sony cioè credo non lo so avevano fatto vedere Marvel e Spider-Man 2 perché noi qua stiamo parlando di Marvel e Spider-Man 1 sì poi ci sta Spider-Man e Miles Morales ma è una cosa a parte e poi ci sta Marvel e Spider-Man 2 e c'è anche Miles Morales e ci sono i nuovi cattivi hanno fatto vedere quello là perché in questi Marvel e Spider-Man mancava Venom e hanno fatto questo gioco con Venom no per il momento hanno lanciato soltanto questo può essere anche che è troppo presto e quindi lo annunceranno l'anno prossimo però sembra non lo so chissà anche se io sono Spider-Man non è che mi cimento molto perché a me mi piace Spider-Man come supereroe come significato ma non se esce il gioco meglio capito non è il gioco la parte principale quindi non è che me lo so seguito molto può essere anche che è stato cancellato questo Marvel e Spider-Man 2 posticipato posticipato ma adesso sono usciti un sacco di trailer però è a metà sta venendo una cosa a stare storta così poi vabbè Stray abbiamo già detto sicuro lo prendiamo cioè tranquilli proprio e lo prendiamo è che lì sto protocol bello ma non mi ispira quindi boh no se ce lo comprate lo prendi se ce lo comprate ma neanche perché horror è uno space è uno space action horror quindi quindi spazi chiusi parti dove quando ti mancano le munizioni ci saranno il massimo della cattiveria ti ho girato un po' più una grazie è molto gentile prego poi roller drum sarà l'annesima fort nineata fort nine fort merdata e roller drum no ether nights no street fighter 6 qual era ether nights quello giapponese ah si in stile no jenshin impact in stile black desert street fighter 6 forse qualche sezione open world con uscita ah si si street fighter 6 si 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 aspetta devo mettere la benzina anche si si sei quasi allo spinimento abbiamo quasi finito dai tunic e season oggi tra la tequila con il limone e questo che mi sta usando facendo usare molte più energie di quelle che ci vorrebbero ci vorrebbero oggi nel letto faccio metto il pigiama metto nel letto o fai VR vomit ready o faccio no mi è piaciuta assai sta cosa si è sincronizzato il blu col blu qua all'improvviso è diventato blu qua intorno che è successo lo sai che è blu là dietro perché si è acceso del blu nel blu dipingo del blu si vedete del blu non lo so e guarda appare del blu guarda bianco è qualche effetto blu hai visto non so aspetta se la spingo che succede blu ci sentiamo scuri c'è comunque il blu si guarda bianco blu hai visto ho visto oh rgb gratis vabbè contenti loro dunque no penso che sia un fatto di avviacenza pixe nel senso che il blu qua sta facendo impazzire il blu della tele vabbè è l'apparazione delle immagini 1 c'è solo quello però lo chiamo 1 così per far vedere poi Final Fantasy 16 ho detto è molto ispirata quindi mi hanno convinta mi hanno convinta e credo che lo prenderemo anche perché sta nel 2023 raga ci vuole tempo quindi ce la dovremmo fare ah vabbè sta nel 2023 a livello di budget ce la dovremmo fare chissà no ma non me in sky io voglio non me in sky io voglio perdermi non me in sky cioè non perdermi beh deve essere una figata e io in call of the mountain vado in non me in sky vr vr stavo dimenticando cioè che io sto nella nave io parto sì tu parti per un lungo viaggio dato che stanno facendo un sacco di sponsor su macarena mobile no volevo fare un video una live su quel gioco vr con i robot dell'arena con i mac con i meca uno di quei giochi di playstation vr il pacchetto che stavi nel robot dove i combattere ah ho capito e stessa cosa hanno fatto make arena quando già si stiva per vr allora quindi ricapitolando dal basso verso l'alto final fantasy 16 ci ha convinto vedremo come sarà il gameplay tra un anno potranno cambiare tante cose in noi e nel gioco in noi season e zen a voi già siete in uno su una live del genere quindi figurati su uno zen tunic street fighter 6 ci ha convinto per l'open world perché ci piace sto fatto che street fighter no l'attacca brigue in città è bello si infatti ether night mi ricordi qual era? giapponese ah si quello giapponese in stile sono giochi difficili da giocare per divertirti devi livellare tantissimo perché sono alla black desert nel senso se tu parti da zero con un personaggio di merda e non riesci a fare cose e quindi chissà callista protocol se ce lo regalate ci giochiamo perché action horror per me sono finiti con dead space e dopo che ho finito dead space non avevo più energie a giocare con action horror space space action horror stray è meraviglioso lo stiamo aspettando da anni perché doveva uscire l'anno scorso poi è stato rimandato e rimandato e rimandato quindi appena uscirà preso ha giudicato spiderman remastered ce può fare una lavata dei coglioni perché non l'abbiamo già giocato può interessare come può interessare come contenuto per chi ha il pc e quindi vuole giocarlo sul pc perché finora non ha avuto l'occasione quindi per quello più che altro ma non ha senso secondo me ricomprarlo a distanza di poco tempo horizon cold mountain VR 2 lo acquisteremo faremo la challenge di daniela che diventerà aloi per un giorno no men sky no men sky però forse faranno un pacchetto perché se questo è in contemporanea con l'uscita del VR potranno fare quelle cose tipo playstation più uncharted non so se in contemporanea perché non hanno dato un'andata di uscita no men sky ci voglio giocare io cioè nel senso lo comprerò ma questo è esclusivo a playstation 4 playstation 5 si anche perché sul compito no perché lo sai che però questo no men sky se ti piace così tanto ci sta già però ci sta già il VR ci sta già in VR mi pare ah ok the walking dead scientist sinner per noi the walking dead è religione cioè il mio sogno è vivere in un mondo post apocalittico governato dagli zombie nel senso tutta quella fase sopravviviamo devo fabbricarmi le armi devo e poi tutti pensano alla morte dagli zombie ma non nessuno pensa che sei libero puoi fare il cazzo che ti pare dall'altra parte diciamo mentre sopravvivi e quindi io lo immaginerei io giocherei alla Daryl diciamo in un mondo del genere Resident Evil Village VR l'avevo praticamente preceduto io tanto tempo fa quando mi insieme la serie ah ma quei particolari e avevo il covid ah Dani ma poi mentre lei giocava ma quei particolari sono molto belli secondo me lo faranno in VR perché c'è la stessa grafica di biohazard VR tac Resident Evil 4 anche uscirà un contenuto per i VR Resident Evil 4 remake lo compreremo assolutamente e questo era il resoconto di un'ora e otto di commenti sullo state of play se vi è piaciuto quindi ricordatevi di niente di iscrivervi al nostro canale dappertutto tutti i nostri canali se vi fa piacere continuare a seguirci e niente ragazzi quindi questo è tutto dal Votermelon Channel ci vediamo alla prossima ciao ciao raga ciao